Benvenuti a questo nuovo video della Faria Family Film, trailer reaction della quarta stagione della Casa di Carta. Siamo qua in attesa. C'è la premiere a 60 secondi dove si trasmettano di qui a poco e quindi insomma vediamo. Ho un brutto presentimento in realtà su sta cosa o sulla quarta stagione? Se vanno avanti come la terza. Eccoci qua, eccoci qua. E' stata una finta. E non è una finta. No, un minuto e cinque. Il conto alla rovescia del conto alla rovescia. E niente, abbiamo il conto alla rovescia proprio qua che sta andando. Non ci resta che aspettare. Fortuna che sui cellulare ho una buona memoria. È tutto carico al massimo. Cinque. Quattro. Tre. E attenzione. Due. Uno. Epic fail. Adesso ci salta la connessione. Ok. Ce l'avevamo lasciati qua più o meno. Bella ciao sotto innanzi tutto. Molto bene. Strano che si puntino le pistole addosso. Eeeh. Strano che si puntino le pistole addosso. Eeeh. 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 Mmmh. Poi un altro schizzato. Sì, Verlund Sì, Verlund E il 3 di abril E il 3 di abril Che dire Mi ha fatto abbastanza pena in realtà O come Allora, primo Sembra che Nairobi non debba morire Perché sono lì, il tavolo operatorio e tutto Le avevano dato Le avevano sparato praticamente su Pedro Aveva già perso 27 litri di sangue Ma quello è stato fatto fin dalla fine della stagione scorsa Sì, lo so, però Sai Da lì mi sembra una cosa un po' E poi insomma Sembra un po' di tamolina con la terza stagione C'è molto Caos, caos, caos Ma da quello che ho potuto vedere La trama lascia un po' desiderare Cioè se effettivamente Uno dei grandi villain della stagione È ancora lì la guardia dentro la banca Che riesce a liberarsi e tutto Non lo so La terza stagione mancava un sacco di inventiva C'era molto cacciarona Facendo succedere le robe così a caso Avevano pompato un po' di più sul base di tutto E poi anche lì tutte le litte interne Tra il gruppo Dentro il gruppo Che poi con te non si è già visto L'unica cosa che mi avrebbe fatto diciamo Un po' balzare in testa E' stato che ci avessero mostrato Tokyo che moriva Non è successo Ma quello ci avrebbe reso proprio giù Soprattutto nella terza stagione Semplicemente un po' più grosso Anche perché questa Sì è parte quattro Però non dobbiamo pensare Come la quarta stagione Cioè le prime due erano legate tra di loro La terza e la quarta saranno legate Quindi probabilmente I difetti della terza Non sono usciti a correggere nella quarta Adesso stanno già iniziando a fare la quinta Probabilmente la quinta Mostrerà una nuova storia ancora E lì forse si ricomincerà a parlare Forse meglio Sì e poi insomma Anche la questione Il popolo dalla loro parte Ste grandi folle Tutte con la loro maschera Ci sono sempre state E non hanno mai portato niente Quindi non so Quanto ancora possono Protrarre questo tema qua Quindi non lo so Anche perché comunque A fine della terza stagione C'era anche la scena In cui diciamo Il professore diceva Adesso è guerra E uccidevano il tizio E quindi Diciamo Non erano più I Robin Hood della situazione E invece qua sembra che Siano ancora presentati come tali Quindi Le cose che vogliamo vedere Tokyo che muore Tanti flashback Con Berlino Palermo E il professore Perché era le cose di Duccio Berlino Un grandissimo personaggio Quindi più lo fanno vedere meglio è Il professore Perché se l'abbiamo lasciato Proprio con i fangheroni Della terza stagione E Io sono curioso di vedere E insieme al professore Anche Lisbona Era sopra il nome L'inspettore Che è stata catturata Dalla bastardona E voglio vedere Se arriva a tradire Dal trailer Sembravano Come dire Lasciarti pensare Che potesse tradire Però Però non lo so Di quello che succede Dentro La banca Poi La banca Mi interessa già meno Forse E Nella scorsa stagione Cioè diciamo Uno o due La prima e la seconda parte Era forse Il contrario Cioè Ti interessava ovviamente Quello che faceva il professore Tutto Ma Ti interessava parecchio Anche quello che succedeva Dentro La banca Insomma Qui sei un po' rovesciato Ma Quindi niente Insomma Staremo a vedere Comunque Quando uscirà E anche Helsinki Scusa Sì Tanto Helsinki Questa serie Quando uscirà Comunque La guarderemo Come abbiamo fatto La terza stagione E la recensiremo Anche di questo passo Sarà ancora tutto chiuso Non lo so Vediamo Sì E il 3 aprile Verosimilmente Adesso manca un mese Poco meno di un mese Rischia di esserci cinema Ancora Quindi dobbiamo andare avanti Di serie tv Non abbandonateci Abbiamo bisogno di voi In questo momento E per questo video è tutto Ci vediamo Al prossimo appuntamento Con l'affare Femine Film Voi intanto mettete mi piace E iscrivetevi al canale Ciao a tutti Ciao